Gesù nasce nel cuore della notte, che bello questo! Nella notte nasce Gesù e nasce come? Come luce che illumina, che attira, che ti permette di arrivare alla meta. Ecco qual è la buona notizia. È una persona, è un incontro che tu fai nella tua vita e questo incontro è un incontro talmente grande che cambia la tua vita. Allora ogni giorno sarà sempre un inizio, un inizio bello, un inizio gioioso. Noi invece di avere quello che siamo veramente discepoli di Gesù, quindi uomini e donne dal sorriso, dalla gioia grande che è dentro di noi. Ecco invece abbiamo tante volte il muso lungo. E aggiungevo così scherzando, per fortuna ora portiamo la mascherina, che almeno non si vede neanche i nostri musi lunghi, non si vedono neanche i nostri musi lunghi. Però gli occhi parlano, ho detto, e dicono lo stesso. Neanche la mascherina riesce a coprire il nostro muso lungo. Allora bisogna avere degli occhi gioiosi in questo periodo, degli occhi gioiosi. Perché? Perché Cristo è la nostra salvezza. Ecco perché dobbiamo essere gioiosi.